Roma, Leverkusen termina 1-0, la Roma triunfa in questa semifinale di Champions League o meglio di Europa League di oggi, 11 maggio 2023. La Roma effettivamente parlando non conduce un gioco buono, a mio avviso anche dopo averla vista poco possesso di palla, veramente mesi, però molto di più Leverkusen, pochi passaggi, molto di più Leverkusen, come anche una previsione decisamente inferiore rispetto a Leverkusen. Sta di fatto che però la Roma riesce a vincere, però bisogna sempre spingere fin di più o meglio di più rispetto a quello che si è spinto. A segnare l'unico gol per la Roma è stato Edoardo Bove nel secondo tempo regolamentare. Leverkusen rimane a zero, non riesce dunque a fare un gol e questo diciamo che mette Leverkusen nella condizione di ricevere una sola sconfitta. Complimento dunque la Roma, peccato per alcune occasioni mancate, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate.